Abbiamo bisogno di questo tipo di prestazione, una prestazione di squadra con grande sacrificio, grande voglia di combattere su ogni palla contro la squadra penso più forte del campionato, però non ci siamo adagiati solo nel difendere, tutte le altre potevamo andare anche a fare delle conclusioni offensive, quindi questo è lo spirito da dove ripartire, lo abbiamo e quindi è importante metterlo in tutte le partite. Infatti abbiamo sbagliato qualche scelta finale, un po' per mancanza di lucidità, un po' di stanchezza, però lo spirito è sempre stato quello, abbiamo cercato comunque di andare a vincere la partita perché ci lasciavano parecchi spazi, peccato però, come ho detto prima, era la prestazione che volevamo tutti, quella che avevamo cercato in settimana e da qui dobbiamo ripartire. Questa forse è la cosa più bella, vedere lo stadio così pieno con tanti nostri tifosi a seguito, era importante dargli una soddisfazione, penso che noi li abbiamo delusi perché avevamo tutti bisogno di questo. Abbiamo speso tanto a livello fisico, soprattutto mentale, perché venivamo comunque da una settimana pesante, adesso la cosa più importante è recuperare perché ci aspetta un'altra gara di questo livello. Ma è una partita difficile, comunque è una squadra che ha speso tanto, ha investito, vuole andare in Serie A come tutti, quindi dobbiamo essere pronti, prepararla al meglio perché sarà un'altra sfida di alto livello.